Questa iniziativa nasce sei mesi fa sotto il lockdown, abbiamo diffuso ottimismo consapevole e nasce come fenomeno social con l'intento di supportare e promuovere tutto ciò che è artigianato siciliano, enogastronomico e anche d'eccellenza e poi tutto ciò che è territorio, quindi sotto forma di strutture ricettive. Passi ne abbiamo fatti ma tanti sanno da fare perché di fatto il progetto è la promozione della nostra terra, della Sicilia nel mondo. Siamo riusciti a fare rete con 257.000 utenti e più di 2.500 aziende. Oggi firmiamo il protocollo con la Regione Sicilia, con l'assessorato dell'agricoltura, con l'onorevole Di Bandiera. È un protocollo che porta a supportare quello che è il QS, qualità sicura, delle marche della Regione Siciliana. Noi saremo il partner per la diffusione e la promozione, visto che le nostre finalità sono qualità, identità e provenienza e quindi sono le stesse finalità che la Regione vuole portare avanti. L'imprenditoria sta attraversando un momento davvero difficile, visto l'emergenza sanitaria dettata dal Covid. Come contrapponete la forza della sicilianità a questa pandemia? Il progetto Io compro siciliano è un progetto nato nei social, poi da fenomeno social si è trasformato ormai a realtà. Siamo la prima società benefit in Sicilia, in Italia ce ne sono 500, una società imprenditoriale e onlus allo stesso tempo. Questo dimostra il fatto che oggi le nuove tecniche anche di vendita girano e viaggiano sul web, viaggiano attraverso tutto ciò che è social e noi stiamo sfruttando e strutturando tutto questo e oggi proprio con il protocollo è il primo passo importante e ufficiale per questa nuova forma di attività. Io ho una volontà forte del governo regionale, dei vari assessorati con competenza, cercare di fare unione e forza per promuovere i prodotti siciliani. Abbiamo tante specificità, stiamo lavorando per un marchio unico in modo che la nostra terra possa essere individuata facilmente e soprattutto che i nostri prodotti tipici di assoluta qualità possano essere promossi nel mondo come meritano. Un passo avanti dobbiamo continuare su questa strada. Noi siamo agricoltori e agroindustriali, abbiamo costruito un pastificio sul mercato da tre anni. Come mai avete aderito a questa iniziativa? Abbiamo aderito a questa iniziativa perché sposa in pieno lo stesso nostro pensiero, cioè di divulgare e far conoscere i prodotti siciliani nel mondo, le eccellenze siciliane, paste, vino, conserve, eccetera. In un momento così difficile forse i social possono supportare maggiormente? I social oggi è uno strumento che se ben utilizzato ci può dare grandi opportunità per far conoscere tutti i prodotti siciliani che si differenziano dagli prodotti di massa. Entrare con un nome unico significa avere più forza contrattuale, anche più impatto verso il mercato? Entrare con un nome unico, certo, l'unione fa la forza per cui da questo punto di vista diventa un di più.